Questo vuol dire fare qualche attività che ti fai uscire dall'egoismo, qualcosa che ti fai uscire, che fai qualcosa di buono per le altre persone. Interessante perché a volte diciamo che attività caritatevole, materiale, non sono spirituali, non serve niente perché sono solo servizio al corpo, non aiuta l'anima delle persone. Invece qui è una cosa molto interessante che Krishna spiega, no, questa tendenza di fare qualche servizio per le altre persone, anche a livello materiale, anche a livello di aprire un ospedale, di aiutare un malato, distribuire il cibo ai poveri, fai qualcosa che invece di pensare solo a se stesso, di fare qualche servizio per le altre persone. Questo, Krishna dice qua, ti porta al prossimo livello, ti fai uscire dall'egoismo. E questo è dove l'ho trovata mia madre, perché mia madre nella sua vita, come lavoro, la vita lavorativa, lavorava per la biblioteca a San Francisco, era responsabile, direttrice della raccolta di fondi per costruire biblioteca, che lei credeva che la cosa più importante della vita era la conoscenza, i libri, era proprio dedicato, aveva una casa nostra, tutti i muri pieni di libri, perché tutti e due, mio padre e mia madre, erano convinte che la cosa più importante della vita era avere la conoscenza, di avere tanti libri e leggere tanti libri. E lei ha dedicato la vita, perché la biblioteca a San Francisco era un po' a pezzi, era un po' messo male, e lei pensava che la cosa migliore che posso fare è per aiutare le persone, la gente, è di costruire una biblioteca degna di una città grande, infatti è riuscita, dopo tanti anni di lavoro, è riuscita, infatti ancora adesso c'è un plaque, con il suo nome, con altri nomi, di persone che hanno dedicato a costruire questa biblioteca, che è molto grande, un isolato intero, un centro di San Francisco. Aveva sempre un po' questa tendenza di desiderio di servire gli altri, di fare qualcosa di buono, volontariato. Anche se non era religiosa, non era religiosa per niente, ci hanno portato in chiesa una volta, mi ricordo. E mio padre ha detto, basta, no. Poi dopo una o due volte è finita la nostra pratica religiosa in famiglia, due domenica nel durato. E per il fatto che lei entrava in questa categoria di questo verso che l'ho letto adesso, l'ultimo verso che l'ho letto alla Bhagavad Gita, l'ho portato, in quest'ultimo momento, in questa settimana che ho passato con lei, che come c'è adesso, torniamo a questo libro che l'ho portato, e chiede a mamma, vuoi che leggo questo libro? Sì, 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 perché lei piace molto, come ha letto, libri, qualsiasi libro. Sì, aveva preso qualsiasi libro, ha cominciato a leggere, lei piace ascoltare e a leggere i libri. Sì, ti leggo questo libro che parla proprio della realtà in cui ti trovi a questo momento. Infatti era un libro scritto molto bene, facendo molto riferimento alla Bhagavad Gita, molto riferimento agli altri testi vedici, ma spiegando in modo molto moderno, molto pratica, cosa succede? Che la morte in realtà non esiste, è solo una transizione, un passaggio, un passaggio uscendo da un corpo fisico, entrando o in un altro corpo fisico, o sottile, o spirituale. Dipende da noi. Questa è l'ultima conclusione di questo libro, era quella di come prepararti per questo passaggio. settimana scorsa, il discorso di legge di karma, di come comportarsi per avere reazioni positive, eccetera. Questa settimana stiamo parlando di questi momenti di transizione, che potrebbe sembrare... Voi, Hare Krishna, parlate sempre di cose molto serie, molto... Sì, è una cosa molto serie, perché è una cosa che dovevamo affrontare tutti. Infatti, il Christian dice, una magra di Hitler, per chi nasce, la morte è sicura, per chi muore, la nascita è sicura. E' uno passaggio che dobbiamo affrontare tutti. Quando uno ha vent'anni, non si pensa molto. Quando uno comincia a vedere i sessanta, i cinquanta, i sessanta, comincia a pensare. Poi quando vede quello che ero visto io la settimana scorsa, si vede che è proprio... è molto vicino. Lei faceva tutti i piani, non pensava, e poi adesso è arrivata proprio vicino, molto molto vicino. Poi questo libro comincia con discorsi a riguardo il fatto che non siamo in questo corpo, che siamo eterni, che siamo diversi da questo corpo, che la vita continua dopo. E più che leggevo, cominciavo a... Vuoi che leggo? Sì, sì, si, legge ancora, legge ancora, continuo a leggere. E il giorno dopo, e poi la sera, quando tornavo, puoi continuare a leggere quel libro, perché la conoscenza, la conoscenza della realtà, che non moriamo, è il più grande sollievo, la più grande felicità, per una persona, perché toglie quella paura. Perché le due cose che ci fanno soffrire in questo mondo, soffriamo tutti di paura e ansia. Siamo ansiosi di perdere qualcosa, di non avere qualcosa, di soffrire, abbiamo paura di soffrire, paura della sconosciuta, ah no, sconosciuta? No, sconosciuta. Ignoto. E più che lei sapeva, imparava dall'ignoto, cominciava a svanire, che non c'era, che cominciava a capire che questo passaggio non è, non c'era avere paura, c'era un passaggio, tu continuerai a esistere, continuare a vivere, dopo che finisce questo corpo. Cominciava a avere proprio una luce, e solideva, nonostante il fatto che il corpo è messo abbastanza male. E più che lei, e la cosa bella di questo libro è che non era un libro settario, che era un dogmatico, che parlava di solo, di questa filosofia, di questa pratica. Incoraggiava le conclusioni del libro e incoraggiava tutte le persone di cercare qualche pratica spirituale per prepararsi, di fare un passaggio positivo. e qual è la differenza, tornando a questi versi della Vaglia di Ghita, che se uno sviluppa compassione, desidera di aiutare altri, di uscire dal coscienza egoistica, avrà una transizione molto più positiva. Invece se uno rimane nell'egoismo, all'avidità, nel pensare solo di se stesso, di come prendere di più e sfruttare altre persone, avrà un passaggio negativo, avrà un passaggio doloroso, portando a una condizione peggiore, di sofferenza in più nella prossima vita, nel prossimo passaggio. E spiegava questo. E poi da questo ho capito come mai mi rimane, e poi parlavo chiaramente di Dio, di nostra relazione con Dio, con le dimensioni spirituali, cose, che non ho mai parlato con mia madre. Praticamente tutta la mia infanzia non ho mai sentito dire alcuna volta la parola di Dio in casa mia. Era proprio una parola, una parola che non esisteva, esisteva nella mia, in casa mia. Non era una cosa della nostra famiglia di stare lì a leggere, a parlare di Dio, di cose spirituali. invece dovuto al fatto che era una persona caritatevole e desiderosa di aiutare altri e si trovava in questa condizione, davanti alla morte, era molto molto felice, molto molto illuminata proprio da sentire questi discorsi. abbiamo fatto una settimana leggendo un capitolo al giorno di questo libro finché siamo arrivati a conclusione e conclusione è proprio la parte preparati spiritualmente per fare questo passaggio e andare verso la luce. Infatti lui spiega quattro, non mi ricordo esattamente in dettaglio di tutti e quattro, ma principalmente quattro cose che succederanno al momento della morte spiega proprio chiaro se uno è una persona spiritualista praticante da tanto tempo perché lui dà il consiglio non aspettare l'ultimo momento magari qualcuno sta leggendo questo libro e non ha mai fatto niente nella sua vita di spirituale e si trova all'ultimo momento non preparato sarà più difficile magari uno deve come l'ultimo momento prima di un esame si trova non preparato invece uno che durante la vita più tempo che abbiamo per prepararsi meglio è diventa più facile ma non importa se anche se all'ultimo momento all'ultimo periodo uno può dedicare e prepararsi una delle preparazioni migliori che abbiamo provato prima di meditare cantare uno può scegliere una preghiera un nome divino a cui si è più attratto ma proprio questa pratica di ascoltare di cantare di meditare di pregare su un nome divino o dimensione divina questa le migliori preparazioni per questa transizione perché ti porta verso la luce ti porterà proprio quel momento ti porterà verso la luce e diventa automatico e uno vai verso questa luce infatti con queste quattro cose che potrebbero succedere il migliore la causa migliore è se tu hai praticato hai preparato fissato la coscienza la mente nella spiritualità si vedrà luce e andrà verso questa luce e verso questa dimensione spirituale una transizione proprio molto fluido facile se uno è un po' meno preparato c'è la possibilità sarà un po' più difficile andare verso la luce poi il terzo non mi ricordo esattamente ma sono vari livelli di dimensione in questo mondo primo direttamente in dimensione spirituale secondo dimensioni materiali ma elevato terzo un po' stesso livello e mi sembra che il quarto e poi il quarto è chiaro uno che è stato tutta la vita pensare solo a cose materiali e il suo piacere materiale andrà verso le tenebre verso il buio perché vive nell'ignoranza ignorando ignorando la realtà che è un essere spirituale non materiale andrà sempre più dentro quella dimensione di ignoranza e ognuno di noi abbiamo questa libertà libertà di scegliere libero arbitrio di scegliere quale direzione vogliamo andare di vendare così mi do qualcosa da portare in me poi dopo una settimana questa quella settimana perché mio padre abita a San Francisco e mia madre a Monterey tre ore di distanza e sono andato su a a visitare mio padre che è nostra relazione devo mettere non è il migliore io ho preso una strada così e lui era ripubblicano attio avvocato ma potrebbe essere più diverso non potrebbe essere più diverso l'uno dall'altro ma allo stesso tempo c'è un effetto naturale un effetto da parte di lui da parte da me è stato un bravo padre super responsabile sempre lavorato sempre a casa alle 6 di sera gli americani mangiano alle 6 di sera non alle 8 era sempre a casa lo sai ma storia lunga ma qualche modo sono due famiglie diverse sono separate sono due famiglie diverse così mi sono entrato da una realtà sono entrato in tutta un'altra famiglia in un'altra realtà molto diverso dopo una settimana che mia madre praticamente giorno dopo giorno si illuminava sempre di più sempre di più sempre più luminoso infatti mi ricordo l'ultimo abbraccio l'ho guardata negli occhi sembrava una bambina completamente innocente e luminosa che mi diceva ti voglio bene ti voglio bene I love you come dicono non è lo stesso e più ti voglio molto bene era molto commovente perché si vede proprio sentivo l'anima anima anima non madre figlio corpo corpo dopo invece sono andato a San Francisco a trovare stato ospite di mio fratellastro che è una brutta parola in italiano è una brutta parola my stepbrother stepbrother in inglese non ha questa connotazione un po' brutta per una persona è bellissima molto brava molto mi ha ospitato proprio da famiglia in casa c'è una casa enorme a San Francisco perché suo padre suo padre era un milionario un milionario super ricco poi morto poi sua madre ha sposato con mio padre e così siamo cresciuti insieme come fratelli e sorelli sono cresciuti anche con lui mi ha ospitato in casa sua il primo giorno sono andato lì ha messo tutte le mie cose lì mi ha dato una stanza perché c'è due fili che sono via all'università mi ha dato una stanza e sono andato a trovare mio padre mio padre è residente a una casa di riposo di alto livello molto costoso peraltro il mio fratellastro si abbassa un po' perfino io sento calmo per l'altro mio fratellastro è che suo padre era ebreo così lui pratica ebreismo il mio fratellastro sua madre no ma suo padre si è praticamente il direttore il presidente delle board of directors il presidente della congregazione del tempio più grande della sinagoga più grande della parte occidentale degli Stati Uniti peraltro nel senso come volontariato e mi ha raccontato un po' tutto il loro hanno 4.000 persone questo tempio occupa di 4.000 persone 2.300 famiglie in tutto 4.000 persone che sono membri di questo tempio mi ha raccontato è interessante perché si scopre che tutte le religioni tutte le istituzioni hanno le stesse problematiche sono le stesse storie le stesse cose le stesse difficoltà è stato molto gentile a raccontarmi un po' tutte le difficoltà del rabbino che non andava il rabbino giovane carismatico che non andava d'accordo con il capo rabbino perché c'erano 6 rabbini che gestiscono a questa sinagoga stesse problematiche che anche non anche il nostro movimento ci sono e poi sono andato l'ho lasciato tutto poi sono andato a trovare mio padre dove il residente in un bello appartamento questa è la residenza mi ha visto dopo 2-3 minuti non so se racconto questo non è un critico di mio padre che lo amo lo stesso ma per fare uno studio un po' delle differenze di personalità collegandosi con questi versi delle bagbacchite perché è una cosa molto interessante che si vede proprio un contrasto molto lampante da una persona che si comporta con questo verso che abbiamo letto nella bagbacchite da un'altra persona che comporta in un altro modo come viene fuori la personalità perché mio padre ha sempre dichiarato di essere molto orgoglioso di essere realizzato che Dio non esiste di essere un ateo di essere coraggioso perché in America non è vista molto bene l'ateo perché ci sono più percentuali di persone che credono in Dio in America che qua in Italia infatti nessuno mi crede quando dico in America che qui in Italia poi in Bologna in Bologna ancora di più c'è più alto percentuale di persone che non credono in Dio qui in Italia che in America che è sempre strana che tutti pensano che in Italia sono tutti religiosi tutti nella chiesa certo mi ha detto guarda poi dove abito io a Bologna non è proprio a casa dopo due o tre minuti che sono entrata perché due anni fa sono andato a visitarlo e la prima cosa che mi diceva è che guarda io non sono mai stato d'accordo con la tua scelta di vita ma va bene lo stesso così ho cominciato molto leggero molto leggero ma questa volta ancora ancora più bello mi ha chiesto ma cosa sei qua a fare proprio così cosa sei venuto a fare sono venuto a visitarti sono venuto a trovarti ma sei venuto a parlare del patrimonio guarda per prima non so che non c'è non c'è perché come si dice spappalato spero 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 parato tutto perdonami se racconto cose un po' intime mie sento molto questo centro racconto c'è questo fenomeno che ti fa sentire molto in famiglia una volta che siamo dentro questo luogo sento molto 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 vicino a tutti voi almeno io sento sento così anche se c'è qualcuno qua che non conosco neanche ma mi sento molto vicino io sono rimasto abbastanza scioccato e dopo una settimana che è stata una settimana più bella quasi più bella della mia vita con mia madre il collegamento più intimo che ho mai avuto con mia madre in tutta la mia vita io ero ancora euforico poi è arrivato lì era come se forse ho preso un bicchiere di acqua ghiacciato tirato in faccia e sono rimasto scioccato e dopo sono rimasto poco e lui continuava a dire dobbiamo discutere le assets situazione patrimoniale situazioni patrimoniali l'eredità io non sono venuto assolutamente per questo discorso sono venuto se vuoi sapere la verità sono venuto a trovare mia madre e visto che sono qua sono passato a trovarti va bene dobbiamo discutere per fare l'incontro con tutti i figli e discutere e yes poi se no ho detto che basta ci vediamo domani sono tornata le mie fratellastre chiamo fratello perché fratellastro su una madre mio fratello siamo con i miei fratelli persone molto molto bravi molto buoni anche lui entra in questa categoria come mia madre una persona che vuole sempre aiutare gli altri religiose anche poi mi ha spiegato io l'ho spiegato anche loro sono rimasti scioccati ma come è possibile è detto così tutti sono rimasti ho chiamato mia madre tutti sono rimasti non era completamente fuori carattere per chi conosceva mio padre ma sono rimasti tutti scioccati e poi mio fratello mi ha spiegato ecco ho capito perché due o tre giorni prima l'hanno scritto perché c'è mio fratello questo fratello che sta gestendo tutta la storia sta curando mio padre perché è cresciuto da bambino piccolo è cresciuto sempre con mio padre io ero come suo padre e sta perché è una persona molto capace molto c'è anche tanti soldi e sta curando mio padre e mi raccontava che pochi giorni prima l'hanno scritto proprio il testamento e fai caso io non c'ero non c'è la legge come in Italia se volendo uno può lasciare tutto al suo cane se tu vuoi può lasciare se tu c'hai un milione di dollari e tutto il tuo patrimonio può lasciare tutto al tuo cane sotto un trustee che gestisce e dai tutto per biscottoni per il tuo cane per il resto della sua vita è vero succede anche succede è successo a mia zia mia zia ha lasciato un sacco di soldi allo zoo l'ho lasciato lì ha detto che gli esseri umani sono tutti cattivi ero così dilusi dall'essere umane che lo lascio tutti i miei soldi allo zoo era fatta era fatta è lasciata mezzo milione di dollari l'ho zoo e ha rifili un potice quasi niente e così mi raccontava il mio fratello il fratello che guarda per prima non c'è quasi resta dopo che ha pagato questo caso riposo ha pagato tutto resta poco quella poca che rimane lui ha lasciato questo 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 e tu non ci sei va bene non c'è problema e mio padre perché non voglio sembrare brutto e criticare mio padre ma facciamo che stiamo facendo uno studio di case non case casistica casisti casistica case non case non c'era case non c'era case casistica che differenza tra persone caritatevole desiderose di aiutare gli altri e persone che pensano solo mio io mio mia famiglia mia famiglia per mostrare quanto sono bravo io mia famiglia che sono bravo perché la cosa interessante mia famiglia io so sono un'area cresce spiritualista mio fratello ha problemi fisici mia sorella è gay invece la mia sorellastra fratellastra lui è un avvocato ricco sono tutti di successo così per mio padre questi miei figli veri tutti falliti queste miei figli adottate tutti di successo materiale perché lui è il tipo di persone che l'unica cosa per i figli è dimostrare ai suoi amici mio figlio è un avvocato mio figlio è questo prende credito per se stessa per se stessa per dire cocktail party che mio figlio sta facendo questo mio figlio sta facendo quello e così mio fratello ha spiegato che lui ha fatto così e probabilmente sta pensando che l'ho sentito e sono andato lì a contestare come mai non mi ha messo nel detto guarda l'ultima cosa di cui pensava perché non entrava non ha mai non pensava per niente di questo e lui non perché uno come uno è dentro di se se stesso pensa che gli altri sono tutti così uno riflette quello che si è dentro riflette sulla persona davanti e pensa che tutti tutti sono avidi pensare solo di se stesso e pensare che sicuramente mio figlio verrà a protestare come mai non mi dà i soldi perché perché avrà fatto lui e ognuno di noi proiettiamo nostra mentalità sulle altre persone e lui ha fatto così poi per fortuna è venuto il mio vero fratello sento fratello di sangue che vai a visitare mio padre durante la settimana anche se abita un po' lontano ma un paio d'ore vai a visitare mio padre e così mi ha accompagnato lui secondo visita e così era un po' più tranquillo ha chiesto di nuovo ma con un sorriso ma come perché sei venuta con un sorriso così l'ho lasciata poi grazie a mia moglie che è scia loca perché io l'ho scritto quel giornaliero così scioccato ho scritto un'email a mia moglie e diceva ma guarda cosa è successo a lei mi diceva no sia compassionevole e tolerante non farti prendere perché è anziano è 91 anni ha fatto 91 anni ieri dopo non potuto restare ancora ma ha fatto 91 anni ieri nel sedio e miracolosamente nel sedio rotelle ma c'è un viso proprio forte pieno di colore pieno di vuole di continuare continuare a dirmi che ho i produttori dicono che c'è ancora 4 anni ancora 4 anni mi ha detto 5-6 volte c'è ancora 4 anni di andare a vivere un'altra cosa che l'ho scoperto è molto interessante che è molto comune in America che si parla molto di utenesia di suicidio assistito dal dottore dei medici poi l'ho scoperto che qualcuno che lo conoscevo poi l'ho saputo dopo tanti tanti anni che è il dottore che conoscevamo un dottore di famiglia l'ha fatto cosa ha fatto questo allora l'ho chiesto questo dottore ha fatto ogni azione in più proprio nascosto perché se uno ha la mentalità che io sono questo corpo c'è solo questa vita c'è solo il piacere questa vita adesso sono vecchio